inevitabile visto che il processo è ancora in corso, anche se ormai verso le battute finali, ma ci vorrà ancora qualche mese. Nel frattempo la legge parla chiaro e decorsi i termini la difesa ha avuto buon gioco a richiedere e ottenere quanto dovuto. Alessandro Zana, deputato del PD, ha presentato un'interrogazione al ministro dell'interno chiedendo risposte chiare sulla drammatica penetrazione delle attività mafiose in Veneto, mentre i consiglieri regionali del Partito Democratico, Andrea Zanoni e Francesca Zottis, denunciano come questa scarcerazione, rischia di gettare a mare anni di lavoro e di indagine, mentre si lascia il territorio e l'economia veneta, scrivono, senza una tutela vera dalle aggressioni della criminalità organizzata. Ad estare clamore e indignazione, anche la notizia che al momento del rientro a casa degli imputati sono stati esplosi ad Eraclea fuochi d'artificio nei pressi della casa di Luciano Donadio, considerato l'elemento di contatto con il clan casalesi attorno al quale ruotava questa organizzazione. I carabinieri già stanno indagando sulla circostanza ma di certo questa appare come un cedimento della giustizia. C'è da dire che la scarcerazione è valida solo fino a che non si concluderà il processo che riprenderà ad aprile.